La collezione di pastiglie che Studio Paper ha disegnato e pensato per te che in Italia nasce dalla necessità di avere dei pezzi semplici, piccoli, molto decorativi, che possono essere utilizzati in diversi contesti, tra cui sicuramente quella dell'hotellerie. Si chiama proprio pastiglie perché ha delle forme molto tonde, molto contenute, ma allo stesso tempo sono poltroncine molto molto comode. Pastiglie si ispira agli American Bar degli anni 50 e per questo abbiamo scelto Urbar Basso, che è stato il primo bar di questo tipo a Milano. Questi pezzi sono sedute, contenute, sono elementi intercambiabili tra loro, caratterizzati anche dall'uso del rivestimento, che può essere molto colorato, molto speciale come in questo caso, sono i tessuti di Dedar. Abbiamo voluto giocare con rasi, saten, di colori quasi come delle caramelle, per quello da qui il nome Pastiglie, che comunque rimanda un universo anche ludico, infantile di gioco e di scoperta. La collezione è composta da pouf, poltroncine e tavolini. Ovviamente il fatto che ci sia una seduta e una scocca, che sono due pezzi complementari, sicuramente è un valore aggiunto in quanto si può giocare benissimo con materiali diversi. La poltroncina è costumizzabile e uno dei tratti più importanti di questo progetto è il fatto che possa essere veramente rienterpretata in tantissimi modi a seconda del rivestimento. E quindi pensiamo che possa essere un prodotto vincente proprio in un campo come quello dell'hotellerie, che ha bisogno sempre di più di progetti personalizzabili e con un forte carattere. Ciononostante è un prodotto che riteniamo essere molto adatto anche per magari dei ristoranti di un certo tipo e perché no, anche in un'abitazione privata e magari dove c'è bisogno appunto di un pezzo che abbia un suo carattere, ma allo stesso tempo di una dimensione un po' più piccola, più contenuta. La cosa più importante come designer, noi cerchiamo di collaborare sempre con delle realtà che siano molto attenti al dettaglio e a come vengono realizzati i prodotti oltre che si possano affidare alla nostra sensibilità estetica, quindi che sia un rapporto sinergico in qualche modo. Il Savo Rafferri Tacchini secondo noi è contraddistinto da un grandissimo senso dell'eleganza, una ricerca degli archetipi anche del passato che però sono totalmente attuali e quindi questo anche voler recuperare dei progetti e ereditarli secondo noi è un sinonimo di cultura, di ricerca e di essere comunque sempre all'avanguardia.